Previsioni meteo per sabato 15 marzo. Al nord bel tempo su tutte le regioni ma con vellature stese in arrivo dalla tarda mattinata e addensamenti più compatti sull'arco alpino con occasionali fenomeni sui settori di confine al centro e al sud. Cielo in genere sereno, poco nuvoloso a parte qualche nube sulle regioni peninsulari, venti deboli di prevalenza variabili, mari da mossi a molto mossi, temperature minime e massime in rialzo.